Il presidente dell'Ebolitana Calcio 1925, Fiorentino Repuccia, rassegna le sue dimissioni. Per motivi professionali e familiari ho deciso di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da presidente della società sportiva calcio ebolitana 1925. Sono stato al timone di questa cordata da cinque anni, conquistando sul campo vittoria e prestigio per la città di Eboli. Dalla prima categoria abbiamo tagliato il traguardo della sede D, che mancava ad Eboli, danni, impegno, sforzi e sacrifici economici notevoli per una maglia chiamata ebolitana. Poi la decisione è di non vendere il titolo di eccellenza, ma di consegnarlo al primo cittadino di Eboli. Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni, il direttore sportivo Ramon Taglianetti, il main sponsor Scuola Nuova di Giuseppe Bisogno, il comune di Eboli e l'amministrazione, i tifosi che da sempre ci sostengono e ci hanno dato la forza per andare avanti, spiega Repuccia. Adesso però è giunto il momento di fare un passo indietro. Consegnerò al sindaco di Eboli Massimo Cariello il titolo di eccellenza. Certamente il primo cittadino lancerà un accorato appello a tutti gli imprenditori per cercare di creare una nuova e solida società che possa proseguire dall'eccellenza verso nuovi prestigiosi traguardi. Lascio l'Ebolitana con rammatico, ma resterò sempre un tifoso ed un sostenitore di questi colori. Spero che a stretto giro si possano creare le condizioni per realizzare una squadra forte e competitiva.